Antonello Longo finalmente Grisolia può attivare un sospiro di sollievo finisce anche questa disavventura diciamo ma nel migliore dei modi tutti negativi 41 tamponi si con la giornata di ieri abbiamo abbiamo reso definitivo questo problema che assillava un po tutti i cittadini di Grisolia e finalmente siamo arrivati ad un esito favorevole, un esito negativo di tutti quanti i soggetti che erano stati sottoposti a Tambone per effetto di due ragazzi quindi positive che erano state messi in quarantena quindi il 13 del posto. Ecco sindaco in questi giorni avete dovuto anche smentire moltissime false notizie. Sì, abbiamo potuto accertare di vero parecchie tech news, parecchie notizie che erano prive di ogni fondamento l'ultima è quella che è uscita ieri in tutte le agenzie di stampa e che con fermezza ho chiamato ad alcune redazioni non a tutte purtroppo dove ho chiesto che venisse direttificata la notizia quindi della grigliata delle ragazze cosa assolutamente quindi non vero. Adesso le ragazze sono ancora in quarantena, non si dovranno più prendere altri provvedimenti? Assolutamente no, bisogna seguire quello che è il protocollo quindi previsto quindi sempre dall'azienda sanitaria e le ragazze dovranno essere sottoposte al secondo quindi tampone trascorso 14 giorni dall'esito del precedente quindi tampone e quindi successivamente dopo nei 10 giorni successiva ad un ulteriore tampone di riscontro. Anche per gli altri 41 è previsto? Assolutamente no, per i 41 non ci è stato dato assolutamente nessun'altra indicazione se non quello di mantenere la quarantena almeno per 14 giorni della data in cui è stato accertato il fatto quindi la quarantena di questi ragazzi finisce il giorno 28.